Siamo a San Diego, all'American Academy of Dermatology, con Giovanna Malara, primario dell'Unità Operativa Complessa di Dermatologia del grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria. Dottoressa Malara, che cos'è la psoriasi? Allora, la psoriasi è una malattia complicata, è una malattia immunomediata, è una malattia che coinvolge il sistema immune e un'alterazione del sistema immune, è una malattia cronica dove predilige e predomina l'infiammazione sulla cute e sulle articolazioni. Ed è una malattia che coinvolge anche altri organi ed apparati, tant'è che è gravata da diverse comorbidità di tipo cardiovascolare e altro, per esempio infiammazioni anche a livello intestinale. È una malattia complessa. A Premilast è il primo di una nuova classe di farmaci orali per i pazienti affetti da psoriasi. Che cosa cambia con questo farmaco nella pratica clinica? Cambia tantissimo perché è proprio una nuova classe di farmaci. È un farmaco di origine sintetica, di piccole dimensioni, che però ha nel suo essere piccolo una grande possibilità di trattamento, grande efficacia e sicurezza anche nella sua somministrazione. È un farmaco che è adatto per pazienti con psoriasi moderata, per i quali non avremmo altrimenti delle terapie e apparimenti efficaci e sicure. E poi è un farmaco di elezione per cui i pazienti che per varie comorbidità hanno controindicazioni a tantissimi altri farmaci, come per esempio i farmaci biologici o biotecnologici o i vecchi farmaci tradizionali. Per esempio la Premilast può essere prescritto in pazienti a cui è stato di recente diagnosticato un tumore o che hanno importanti alterazioni a livello renale o importanti comorbidità cardiovascolari. È un farmaco sicuro e a questi pazienti può essere prescritto. Questi pazienti in altri tempi non avrebbero potuto fare alcuna terapia per la loro psoriasi. Quindi da un punto di vista più tecnico quali sono le differenze tra una small molecule, una molecola piccola come a Premilast e i farmaci biologici? Allora i farmaci biologici sono dei farmaci di origine biologica, cioè sono delle immunoglobuline opportunamente modificate che poi presentano un braccio che andrà a captare, a inibire quelle molecole infiammatorie, le citochine infiammatorie che sono poi responsabili della psoriasi. La Premilast invece è una molecola di sintesi, una molecola proprio di piccole dimensioni che invece modula la cascata di queste molecole infiammatorie, di queste citochine infiammatorie che sono responsabili della psoriasi. Quindi un meccanismo completamente diverso e una struttura completamente diverso. Uno è un farmaco di origine biologica, cioè il biologico è un immunoglobulino opportunamente modificato. L'altro, la Premilast, è una molecola di piccole dimensioni, però molecola di sintesi. È più pratica? È estremamente più pratica perché la sua somministrazione è orale e questo è un grandissimo vantaggio. Il paziente che soffre di psoriasi è un paziente che ha una qualità della vita decisamente compromessa. L'idea di poter curare agevolmente, in sicurezza, la psoriasi con un farmaco che non sia necessariamente di tipo infusionale o sottocute, come avverrebbe per esempio per i farmaci biologici, dà uno spiraglio di migliore vita ai pazienti affetti da psoriasi, rimanendo il fatto che è un farmaco estremamente efficace e sicuro.